Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Allora, come vedere già dal titolo, oggi parliamo di videogiochi, ogni tanto capita e appunto parliamo di, devo leggerlo perché è un titolo lunghissimo, Naruto Cross Bruto Ultimate Ninja Storm Connections. Aiuto. Allora, ho avuto modo di giocare in questi ultimi giorni con questo nuovo titolo dei Ninja Storm dedicati al Naruto. Il gioco uscirà ufficialmente il 17 novembre, nel momento in cui esce questo video è scaduto l'embargo e dunque vi posso dare un po' delle mie considerazioni. Per chi si trova un po' spaisato, perché in questo canale trova anche dei contenuti di videogiochi, ripeto sempre, occupandomi principalmente di questi due argomenti, cinema, serie tv e appunto videogiochi, cioè cinema e serie tv messi assieme, parliamo sempre di prodotti audiovisivi e videogiochi. Dato che questo canale è una mia diretta estensione di quello che faccio, allora eccomi qua a parlare anche di videogiochi. Sarò, come sempre, molto breve perché alla fine non è un giocone grosso. So che c'è una bella community là fuori che è sempre in attesa di sapere cose per quanto riguarda prodotti orientali, anime, specialmente quando si parla di Naruto, One Piece, ora che è anche tornato Bleach, ma anche Dragon Ball che è tornato su Prime Video, la gente esplose di amore, Anche io così. Allora, Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections può essere definito il gioco perfetto, quello che ha proprio la parola sulla copertina con scritto completo, il gioco completo per tutti gli appassionati di Naruto? In qualche modo sì. Parliamo di un picchiaduro estremamente ibrido, ci sono addirittura, pensate, ben, anzi più di 130 combattenti che vengono presi da tutto l'arco narrativo di Naruto, dall'inizio alla fine, dal primissimo scontro con Sasuke fino all'ultimo scontro con Sasuke. E una delle parti principali del gioco è proprio la campagna principale che va a toccare tutto l'aspetto narrativo, tutta la storia di Naruto. Non va a coprire tutti i combattimenti, bensì ne va a coprire, non so, per ogni arco 5-6, magari quelli più importanti, quelli più emozionanti. Come sapete il gioco è sviluppato da CyberConnect2, che loro sono molto bravi, sono anche gli stessi per esempio di quello che ha avuto un po' più di chiacchiere, che continuano a supportare Dragon Ball Z Kakarot. Loro sono molto bravi a realizzare le cutscene, queste cinematiche che sono veramente esplosive in tutti i sensi, sono ricche di dettagli, coloratissime, realizzate davvero bene, prese, non dico di pari passo, uno a uno, dalle tavole del manga o da frame dell'anime, però danno sempre molta importanza all'esecuzione di queste cutscene, e infatti molte volte i combattimenti, quelli più importanti, poi sono seguiti da dei quick time event, dunque nel momento in cui si sta a combattere, bisogna premere dei tasti specifici per eseguire un'azione e continuare con la bellissima coreografia che hanno realizzato. Il gioco, ecco, sotto questo aspetto la campagna principale funziona, però come vedete nel titolo c'è anche Boruto. Boruto, figlio di Naruto, è iniziata anche la serie manga, che lo stesso Kishimoto ha preso in mano per continuare a raccontarlo, prima se non sbaglio non era lui che aveva preso in mano questo racconto, adesso lo sta mandando avanti lui. Boruto non è mai entrato nelle corde e nell'amore di tutti i fan di Naruto. Questo gioco, secondo me, in qualche modo cerca anche di rispondere, anzi di arrivare a questo obiettivo, ovvero cerco nuovamente di riproporti Boruto, anche a livello di videogioco, e per farti vedere che ha qualcosa da dire. Non lo faccio con la storia che stiamo narrando adesso, bensì lo faccio con una storia inedita, scritta appositamente da Kishimoto per questo gioco. Anche la storia inedita l'ho giocata, non mi è sembrato questo granché, però alla fine è un plus per quanto mi riguarda, è una cosa in più all'interno di questo pacchetto di gioco, che secondo me è più dedicato agli appassionati di Naruto e la loro possibilità di giocare a... di utilizzare, scusatemi, più di 130 combattenti. Non so se vi ricordate gli ultimi capitoli, se non sbaglio, di Dragon Ball Budokai Tenkaichi, che erano praticamente pieni anche dei personaggi più idioti, io ricordo che mettevano anche... c'era uno degli ultimi, c'era davvero pieno di personaggi, c'erano davvero 200 personaggi, ma alcuni erano davvero idioti, tipo Arale, misero Arale, ora non mi ricordo se è il 3 o il 4, non me lo ricordo, comunque sia... capito? No, il 4 non me lo ricordo, vabbè, insomma, forse il 3, vabbè. Era pieno di personaggi, non perché erano presi da GT o da Goku bambino, ma era veramente... c'era anche quel combattente tipo indiano, mi sfugge il nome, c'era personaggi buttati proprio lì così, che in un ipotetico combattimento lui contro Gogeta di quarto livello non aveva proprio senso esistere, però quasi come se più ne mettiamo e più il gioco è completo, assolutamente. E anche in questo gioco ci sono dei personaggi che non è che sono così interessanti, però li hanno ficcati dentro. Anche se hanno fatto un po' quella furbata, tipo di inserire tipo 6 diversi Naruto, quando secondo me si poteva fare esattamente come succede in Dragon Ball, tu hai Goku e poi dopo puoi selezionare, premendo i dorsali, magari switchando con L1, R1, la modalità di personaggio, cioè Goku, Goku Super Saiyan, 1, 2, 3, oppure invece magari c'è Naruto iniziale, Naruto dopo un anno, sono proprio tutti personaggi diversi, non è che hai una selezione diversa di quel personaggio che lo prendi subito in modalità Super Saiyan, se vuoi prendere la modalità di Naruto e Remita c'è un altro personaggio che è Naruto e Remita. Così tu riempi facilmente, alla fine ti trovi per esempio 6 Naruto, 5 Sasuke, ci sono 3 Kakashi di ogni singolo personaggio, poi c'è il personaggio della guerra mondiale dei ninja, insomma. È un roster anche un pochino gonfiato, però va bene così, non è quello il problema. Se proprio devo trovare un problema, campagna principale ne abbiamo parlato, di Boruto ne abbiamo parlato, 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 Il problema è, secondo me, l'accessibilità. Naruto cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection è un gioco estremamente accessibile a tutti. E questo sempre per riprendere quel concetto che sembra quasi come se gli sviluppatori come loro obiettivo avevano quello di far conoscere anche più che Naruto Boruto, cioè provare a trovare nuovi appassionati nel mondo con questo gioco. E che cosa fanno, dunque, all'inizio del gioco? Ti chiedono che tipo di combattimento vuoi avere, un combattimento facilitato oppure un combattimento classico. Aiuto. Allora, il combattimento facilitato addirittura, ragazzi, letteralmente si sviluppa su due, scusate, su due tasti. Due tasti, un tasto per eseguire il classico combattimento fisico e un altro tasto per richiamare tutte le tecniche ninja. Basta. Cioè, praticamente, è una cosa che molti, mi ricordo, all'epoca criticarono per Dragon Ball Z da Kakarot. Se vi ricordate, con cerchio gli attacchi fisici, con quadrato erano i colpi energetici e poi richiamando il menu degli attacchi speciali potevi attaccare. Ecco, questo gioco, come gli altri ninja storm, è esattamente la stessa cosa. Non cambia nulla. E addirittura c'è la possibilità di semplificarlo ancora di più. Di usare solo due tasti. Davvero si può giocare con due tasti. Questo, chiaramente, chiede un grosso compromesso. Il pubblico lo sa che questo gioco non è uno Street Fighter, un Mortal Kombat, assolutamente, no. Ma al tempo stesso, neanche avere queste grosse facilitazioni, che, ripeto, magari aiutano a vivere di più la storia in un modo molto più leggero, libero, senza troppi tecnicismi, senza troppa difficoltà, possiamo dire. Però al tempo stesso, insomma, non è che diventa, come dire, fastidioso, no. Perché potete tranquillamente prendere il coso, il scegliere il combattimento, quello classico, e dunque combattete con quello. Dunque, le tecniche ninja si possono eseguire, magari c'è una sequenza di tasti, di due o tre tasti da premere, potete fare con la tecnica ninja, essenzialmente basta, niente di più, niente di meno. L'online, allora, c'è chiaramente il combattimento online, c'è poi il classico negozio in cui potete comprare costumi, accessori da mettere sul personaggio, sono tutti oggetti cosmetici, dunque non cambia nulla, diciamo, nel bilanciamento del personaggio. Anche se il gioco ha una struttura da mobile game, perché, per esempio, ogni volta che fate un combattimento, voi siete chiamati quasi a mettere una reazione, cioè vi è piaciuto, non vi è piaciuto, faccina che ride, non è una cosa così. Addirittura, alla fine di ogni grande arcona, di ogni saga, il gioco ti chiede di fare una scelta, quasi come se dovesse profilare il videogiocatore, che poi te lo dice direttamente, cioè non influisce sulla storia, assolutamente. Dunque, una cosa in più così, però vabbè, è più la curiosità di vedere il resto del mondo che cosa ha votato, cioè se globalmente ti sei messo nella maggioranza o nella minoranza, ma sinceramente poi te lo dicono non frega niente a nessuno. In più, c'è quel classico sistema da mobile game, dove praticamente ogni accesso che fate, ogni giorno, se accedete oggi al gioco, vi danno 300 soldini di valuta di gioco, poi domani te ne danno 600. Insomma, quasi a invogliare a fare l'accesso quotidiano, che è qualcosa, una meccanica similpredatoria tipica dei mobile game. Però qui, insomma, non dico che l'ho vista un po' inutile, però, insomma, c'è. Per il resto, sinceramente, non ho nient'altro da dire. Sono uno che, chiaramente, il gioco l'ha finito, l'ha giocato, la storia l'ha finita, davvero, ragazzi, in due, tre ore, finita tutti i capitoli. L'ho giocato, chiaramente, togliendo tutte le classiche semplificazioni, dunque, mi sono divertito a fare le tecniche ninja, richiamandole proprio con i tasti. Però bisogna dire una cosa, alla fine, è un titolo che cerca di riassumere tutti i giochi di Naruto usciti finora, con un piccolo focus su Boruto, e per il resto, è una grossa celebrazione di Naruto. Quindi, non riesco a voler male a un tipo di gioco che, palesemente, non cerca grossi tecnicismi, non cerca un fattore, per esempio, competitivo, non è quel gioco competitivo, perché, purtroppo, anche le fasi di combattimento sono molto semplici. Appena trovate un personaggio con cui riuscirete a giocare bene, sarà facile andare avanti, perché, tra le tecniche di sostituzione e le tecniche ninja, vi basterà concatenare queste due cose, e più o meno potete vincere qualunque tipo di scontro. Magari ci sono quei personaggi che hanno un pattern di attacco un pochino più lento. Per esempio, ho individuato Orochimaru o anche Rock Lee, per fare un esempio, ne sto ancora provando altri, che sono molto lenti nel loro combattimento, nel loro, diciamo, nel loro pattern di attacco, però per il resto, insomma, si può, il resto, sono tutti personaggi abbastanza fattibili. Ben, ben, anche, anche Jiraiya, per esempio, è un po' un misto, ha degli attacchi molto lenti, per esempio Sakura, ha, è molto veloce ad attaccare, gli attacchi fisici, però, ha delle tecniche ninja che sono molto lente, che non hanno un grande raggio d'azione, dunque, o siete proprio davanti al nemico, oppure ci sono quelle che hanno bisogno di un po' più di tempo per essere eseguite, insomma, potete proprio sbizzarrirvi, ma è qualcosa di estremamente veloce, leggero, non serve, non serve molto tempo per approfondire tutti i combattenti di questo gioco. Dunque, chiudo qua, spero di essere stato breve, spero che, comunque, vi possa piacere, vi possano piacere queste incursioni del mondo videoludico qua su questo canale, ma che anche se non vi piacciono, io continuo a farle, e, niente, ci vediamo, se volete, sotto nei commenti, ne approfitto poi anche per invitarvi su The Games Machine, il sito, che troverete lì, la recensione scritta di questo gioco, ma che questo video un po' riassume il tutto, e nulla, noi, appunto, ci vediamo ad un prossimo video, siamo sempre sintonizzati qua, iscrivetevi, ah, come sempre, giù nei box informazioni sono tutti i miei link e i miei social, se volete domandarmi qualcosa, seguirmi, sono lì, e ripeto, noi ci vediamo, appunto, ad un prossimo video. Ciao a tutti!